Il camminare fa bene. Io infatti quando non cammino sto male. Lo facciamo spesso e volentieri, cioè 4-5 volte a settimana. In Europa il tumore colorettale è il secondo tumore più diffuso nelle donne e il terzo negli uomini. Screening e prevenzione sono armi contro. La campagna promossa quest'anno da Europa Colone Italia si chiama Step Up. È una campagna di prevenzione per il tumore del coloretto che quest'anno pone l'accento sul valore e sull'importanza dell'attività fisica moderata, semplice, ma quotidiana, proprio come elemento fondamentale insieme alla prevenzione di tutti gli altri fattori di rischio proprio nel limitare l'insorgenza di questa malattia. Posso guardarci? Il beneficio è semplice, 70-75, eccoci qua. L'attività fisica mette in atto tutta una serie di azioni nel nostro organismo che in genere hanno un effetto positivo, ma perché sono, come dire, contagiosi. Cioè chi fa sport, chi cammina, poi tende anche a mangiare bene. Nasce così Step Up, l'app gratuita sviluppata per il conteggio dei tassi e per documentarsi. Quindi Step Up unisce questo ritorno personale di verifica della propria attività fisica quotidiana alla condivisione di un materiale informativo mirato proprio a diffondere l'informazione sulla prevenzione per questa malattia. Camminare ci mantiene in vita. È difficile iniziare, poi una volta iniziato, una volta che ti prende, senti il bisogno di uscire tutti i giorni. Perché camminare fa bene a tutti, a qualunque età, lo si può fare insieme ad altri, magari condividendo l'obiettivo. Kilometri e mezzo, tre chilometri, tutte le mattine. Sempre vanno nella mano? Sempre. Meglio di un terapia, uno psicoterapeuta. Io guardo da stamattina alle sei e mezza. Ora vado a lavoro e affronto la giornata. C'è più energia nei movimenti, nella scioltezza, in tutto quanto. Noi tutti i giorni mangiamo. Tutto quello che noi introduciamo deve essere smaltito, deve essere in parte trasformato in energia, in parte deve essere eliminato. L'attività fisica è un catalizzatore di questa depurazione del nostro corpo. Stavolta, collega. Primo giorno io. Però so che fa benissimo, quindi da oggi in poi si cammina.